Ora voi mi direte, si può dire ma che c'entra la Costituzione con Sanremo? Cosa c'entra? Ma Sanremo veramente c'entra nel senso che Sanremo abbiamo detto che è il luogo dello spettacolo, della musica, quindi dell'arte e la Costituzione è legatissima con l'arte, anzi sono quasi la stessa cosa perché la Costituzione è un'opera d'arte, è un'opera d'arte e canta, canta anche la Costituzione, è un canto, canta la libertà e la dignità dell'uomo. Prescindiamo dalle polemiche che sono sorte dopo l'intervento di Benigni al Festival di Sanremo e concentriamoci su alcune cose che lui ha detto lì, secondo me interessanti, per quanto riguarda la Costituzione. Lui mise la mano avanti dicendo vabbè se qualcuno vuole contestare la mia presenza qui sul palco di Sanremo dicendo che è un luogo inadatto a parlare della Costituzione o a predicare come fece lui della Costituzione, con entusiasmo certo e con convinzione anche sui valori, principi eccetera che la Costituzione ovviamente ha in sé e veicola. Tuttavia mise la mano avanti dicendo no io sono qua in un luogo in cui va anche bene dire queste cose. Perché la Costituzione è un'opera d'arte, è un'opera d'arte, è un'opera d'arte e canta. Non è un'opera d'arte inerte come se fosse una celebre scultura a cui manca solo la voce, perciò se ne starebbe muta e immobile in bella mostra su qualche palco per essere ammirata. Quindi no, per il comico Benigni la Costituzione italiana non è qualcosa di inerte ma è viva e canta e tra il suo repertorio di canzoni canta diciamo la libertà e la dignità dell'uomo. Dunque per Benigni la Costituzione canta anche dal palco di Sanremo e tra le cose che canta lui disse la dignità. Pertanto ascoltiamo cosa disse il Presidente Mattarella in merito alla dignità nel suo messaggio alle Camere per il secondo mandato il 3 febbraio 2022. La dignità dunque come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile. Dunque il Presidente Mattarella fece presente che la dignità e anche l'impegno e la passione civile. Ciò che noi facciamo in effetti cos'è? Un impegno civile, passione civile. Per che cosa? Per l'interesse pubblico, perché ciò che stiamo denunciando a Galimberti e le sue frodi eccetera e a tutela, almeno cerchiamo di farlo, a tutela dell'interesse pubblico perché questi libri, queste frodi scientifiche circolano ma non solo hanno già fatto danni a studenti di Cafoscari ma continuano a circolare anche le torri elettrici eccetera ma continuano a circolare e come abbiamo detto e rideremo ancora sono ancora presenti nella biblioteca di Cafoscari e quindi continuano a danneggiare eventualmente gli studenti che vanno lì e pensano di abbeverarsi dalla cultura di chi sarebbe in questi libri, mentre invece sono frodi e sono cose cerebellodiche, manipolazioni, parafrasi e spesso c'è roba copiata dalla lettera che uno pensa che sia di Galimberti ma invece lui l'ha rubata in libri altrui. Dignità è un paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità, libero anche dalla complicità di chi fa finta di non vedere. In ciò che noi stiamo trattando, nello specifico, c'è delle impostore di Galimberti, delle frodi scientifiche, dei suoi libri frode di Bulgati eccetera a cosa si riferisce il Presidente Mattarella dicendo che dignità è un paese libero anche dalle complicità di chi sa, vede e non dice niente sta zitto a fince di non vedere rispetto anche a queste questioni che noi stiamo denunciando e tanta gente sa che Galimberti, anche a livello istituzionale abbiamo già detto, che Galimberti ha rubato, ha saccheggiato le proprietà intellettuali altrui fabbricando questi libri frode con la refurtiva e quindi vende robe come una che va rubata così rivende la refurtiva, la stessa cosa, non c'è differenza in effetti, benché sia sotto una veste di legalità ma sotto in effetti è questo il contesto in cui si muove questa situazione, questa roba, questo traffico diciamo così e il Presidente Mattarella denuncia questa cosa Dignità è un paese libero dalle mafie, libero anche dalla complicità di chi fa finta di non vedere Dice tu, amico, compagno, parente di Galimberti che sai, hai visto che lui fa queste cose, devi denunciarlo perché se non lo fai sei una persona indegna Dignità è assicurare e garantire il diritto dei cittadini a un'informazione libera e indipendente Dignità è anche, disse il Presidente, garantire il diritto dei cittadini per un'informazione libera e indipendente Cioè che non sia manipolata o camuffata per veicolare interessi di parte, manipolando, ingannando la gente Ecco, il diritto dei cittadini a avere un'informazione indipendente, libera, corretta, leale Quando disse questa cosa il Parlamento si alzò in piedi con applausi scloscianti, applaudendo E come dire, consentendo a questo monito del Presidente Sì, bisogna informare i cittadini in modo indipendente, libera, leale, in modo corretto Perché è il loro diritto Però poi noi vediamo che in Italia c'è la libertà di stampa, di informazione Va il passo del gambero Difatti dal 2010 al 2019, in tirreggiata, nel 2022 siamo scesi al 50esimo posto Nell'indice mondiale della libertà di stampa, su 180 paesi, siamo al 50esimo posto Quindi cosa abbiamo fatto? Dal 2019, quando eravamo più avanti E, di cosa abbiamo già detto, il Presidente disse La libertà di informazione deve essere difesa I giornalisti devono agire con indipendenza e con rigore Per alimentare credibilità e fiducia Nell'assolvimento della missione di servire i governati e non i governanti Nel 2022 siamo arretrati Quindi la libertà di stampa in questo paese Ha fatto, come si dice, il passo del gambero E le redite è andate indietro Sempre, sempre peggio La prima conversazione dell'anno con il professore Umberto Galimberti Che è la nostra guida spirituale e forse anche morale Quindi grazie, professore E quindi siamo tornati in onda Per dire cosa? Che la giornalista concede Gregorio Ignorando il monio del Presidente Sulla dignità dei giornalisti Per cui loro devono garantire il diritto ai cittadini Un'informazione corretta, leale, indipendente, eccetera Lei spacciò ancora Galimberti per una guida spirituale Addirittura forse anche morale Quando è provato che è un acclarato impostore C'è un ladrone, un filosofo Mariola Che ha staccheggiato le proprietà intellettuali altrui Però lo spacciò ai telespettatori di La Sette in onda Come una guida spirituale Allora vediamo cosa andò in onda lì Questo teatrino, questo duetto Tra De Gregorio, la giornalista De Gregorio E il filosofo Mariola Galimberti Però non c'è dubbio, non c'è dubbio Riprendo quello che diceva il professor Galimberti Sull'incultura Non c'è dubbio che sono stati anni e anni Di diserbante Proprio sistematico Su tutti i cespiti dei fondi per la ricerca L'università, la cultura, la scuola Con la cultura non si mangia I radical chic, i professoroni Quindi De Gregorio si disse d'accordo con Galimberti Sulla questione dell'incultura Che profigua in questo paese La gente non pensa più Diventa sempre più ignorante Perché dice lei? Perché in questi anni si è gettato il diserbante Come con le erbacce Quindi questo diserbante è stato buttato sulla cultura E la si è fatta seccare Perché attraverso anche denigrare I professoroni La cultura con la cultura non si mangia Eccetera eccetera Quindi ovviamente ha fatto deserto Un diserbante ha fatto deserto E la gente è diventata più incolta Perché non sa pensare Come dici Galimberti Gli italiani sono ignoranti Non sanno pensare E quando un popolo pensa poco E incolto come siamo noi italiani Ignoranti siamo Veramente ignoranti E lui invece pensa Lui e De Gregorio pensano Mentre gli altri italiani sono ignoranti E devono abbeverarsi alla loro fonte Ma vediamo cosa dice Galimberti in merito La cultura mi spiace ma è importante Non dimentichiamo che democrazia L'ha inventata Platone Demos vuol dire popolo Kratos vuol dire potere Potere al popolo Però subito dopo Cosa ha detto Platone Perché la gente possa decidere È necessario che sia istruita E allora bisogna che in Atene Si faccia tanta paidea Tanta cultura Quello che dicevo prima È che noi dobbiamo fare tanta cultura A partire dalla scuola Che non la sta facendo Da 30 anni la cultura E allora vengono fuori giovani Che non sanno niente Che non si appassionano a niente E tenete conto Che la cultura è molto seduttiva Affascina Se tu gliela porgi bene Posto che la storiella di Galimberti Su Platone La democrazia La paideia Che la scuola non insegna È un disastro Da tanti anni Quindi i giovani sono ignoranti Non sanno niente Eccetera eccetera Queste cose che lui Va gracchiando da anni Come un pappagando Ripete sempre le stesse cose Però la gente cosa fa Pensa che lui Viceversa Sia un pozzo di scienza C'è uno che va diffondendo cultura Anzi La cultura che lui diffonde La diffonde in modo affascinante Seduttivo La gente Corre Perché lui seduce Con la sua cultura E quindi sarebbe realmente La nostra guida spirituale Lui con le sue Diciamo così Con la sua cultura Con la sua scienza Nutrirebbe Nutrirebbe Lo spirito Per cui Vediamo un po' Come Galimberti nutre lo spirito Sofocle Nell'edippo re Racconta che Racconta che a Tebe C'era una pestilenza Ed Edippo Che quando era nato Era stato affidato A un pastore Affinché lo buttasse giù Dalla rupe Lo facesse morire Perché Un auspicio Diceva che quel Figlio Avrebbe spodestato il padre E questo Il pastore poi non l'ha buttato L'ha cresciuto Edippo vuol dire Che c'è il piede storto Perché Nell'attitubanza Di buttarlo E di non buttarlo Gli ha soltato il piede Edippo arriva Ad Atene E lì incontra La Sfinge Che gli propone Un enigma Allora Enigma Il contrario di enigma È problema I problemi si risolvono Vedete che è labiale Ma l'enigma no Edippo riesce A risolvere l'enigma La peste scompare Entra nella città E sposa Giocasta Che era sua madre Ma lui non lo sa Che era sua madre Era la regina di Tebe Ciò che Calimberti raccontò Sono delle altisonanti Assinerie Calimberti fa iniziare L'edipo re Dicendo che Poi dice Soffro che lo scrive Ma è falso questo Facendo iniziare L'edipo re Con la pestilenza a Tebe Dice Pestilenza a Tebe Poi racconta che cosa Che Edipo Che secondo lui Da bambino Il padre Avrebbe avuto un auspicio Non un oracolo Un auspicio Per cui Il figlio Avrebbe ucciso il padre Eccetera Eccetera Lui allora Laio Per evitare Che succedesse Questa cosa Dice Lui affida Questo bambino Piccolo Appena nato A un pastore Che il pastore Cosa fa Lo dovrebbe uccidere Lui cosa fa Calimberti Dall'immagine Il pastore Che lo prende Per i piedi E lo fa Dondolare sopra una rupe Di qua Di là Di qua Di là Di qua Di là Poi ci ripensa Ma no Poverino Perché devo ucciderlo Questo bambino È così simpatico È carino E se lo tiene Però cosa succede Che Dondolando Di qua Di là Gli ha stortiato il piede Secondo la versione Di Calimberti Ora noi sappiamo Che invece A Edipo Gli furono forate Le caviglie Per mettere Un laccio Quindi non Dondolamento Quindi è falso Quello che dice Calimberti Nella fattispecie Poi prosegue ancora Dice che lui Adotta questo bambino E che è falso Anche questo Perché lui Lo lascia Lo abbandona In un bosco E poi passa Di lì Un altro pastore Un'altra persona Che lo prende E lo porta La moglie Del re di Corinto Dove lui Rimane lì Quando Edipo cresce Ci sono digerie Sulfate Che lui Non è figlio È un bastardo E lui va Allo lago di Delphi Per avere Da loro Un chiarimento Su questa questione Dice Ma io sono veramente Figlio Di Corinto Oppure no E lì Gli dice Che lui Ucciderà il padre Però non dici Quale papà Se il naturale O l'adottivo Non lo dice Perché come diceva Era credito Insomma L'oracolo Indica soltanto Non dice Ne nasconde Ma indica soltanto Quindi a lui L'oracolo indicò Che a Edipo Che avrebbe ucciso Il padre Ora Edipo cosa fa Ad Atene Arriva ad Atene Cioè non è che va Verso Tebe Ma arriva ad Atene Che è una panzana Che non ci va ad Atene Ma verso La strada di Tebe E lì incontra l'aria O cui c'è un diverbe E lo uccide realmente Ma lui non sa Di uccidere il padre Che pensi che suo padre È il re di Corinto Comunque Lui prosegue avanti E arriva dove c'è la sfince Che gli pone Questo famoso enigma Quindi la sfince Gli pone questo 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 enigma E Galimberti dice Fa anche un po' il filologo E dice Enigma Il contrario di enigma È problema I problemi si risolvono Vedete che è labiale Ma l'enigma no Però poi subito dopo dice Edipo riesce a risolvere l'enigma Cioè quindi si contraddice Perché se Prima ha detto Che gli enigmi Non si possono risolvere Mentre il problema sì Poi dice Edipo risolve l'enigma E che è una contraddizione Anche come filologo Galimberti dice Delle panzane Quindi Edipo risolve l'enigma E la peste scompare Lui arriva a Tebe A Tebe E sposa la giocasta La regina di Tebe Che è sua madre Ma lui non lo sa Sono panzane allucinanti Dette a ruota libera Cioè ha stravolto completamente L'edipo re Perché la peste Diciamo solo questo Non è che scompare Quando lui risolve l'enigma Perché la peste arriva dopo Quando Edipo ha già quattro figli Come racconta Sofluge E non Galimberti Ha già quattro figli E quindi siccome il sangue di Laio È invendicato Allora Apollo Manda le frecce Pestifre Eccetera Eccetera Perché vuole che sia vendicato Il sangue di Laio Versato da Edipo in precedenza Che lui ovviamente Non sapeva che fosse suo padre Naturale Eccetera Quindi ciò che dice Galimberti Sono tutte panzane Perché lui sposa La madre giocasta La regina di Tebe Perché Creonte aveva detto Che chi avrebbe Come di lui ucciso la spinge Avrebbe sposato la regina Sua sorella Eccetera Quindi ciò che racconta Galimberti Sono delle panzane Eppure questo ciarlatano Questo ciarlosfo Che dice queste panzane asinerie Si spaccia per un grande Uomo di cultura E accusa gli italiani Di incultura Accusa i giovani Che sono degli ignoranti Che non sanno niente Mentre lui va raccontando Pansane e raffica Naturalmente Quello di uscire dal nichilismo Fa parte Della psicologia cristiana Di tutti noi Dico di tutti noi Anche degli atei Perché anche loro sono cristiani Anche di me Che non sono cristiano Perché penso in modo greco Ma però l'inconscio mio È cristiano Dunque Galimberti dice Che lui Ha un inconscio cristiano E pensa in modo greco E che già questo È portentoso Prodigioso Chissà come farà È scisso Tra due mondi Cioè dentro di sé Nell'inconscio Nel profondo di sé È cristiano Mentre sopra Così in alto Cioè nella mente Nel suo cervello Così nel suo pensare È greco Chissà come farà Ora I fatti ovviamente Certivi che invece Sono delle panzane Perché Galimberti Si dice Io come si sa Ormai Ho una mentalità greca Ma sul mondo greco La cultura greca C'è un sacco di Fesserie C'è un sacco di panzane Abbiamo dimostrato Con l'edipo re Qui Ma di queste cose Galimberti Questa signeria Le ripete da anni Le avrà gracchiando Da anni Dai vari trespoli Del bel paese Ma non solo Questo suo edipo Ma dice tant'altro Pansane Sul mondo greco Sulla cultura greca E però lui si spaccia Come uno Ormai di mentalità greca Io come si sa Ormai Ho una mentalità greca E ovviamente Va lì In combes Dallo schermo Di in onda Dicendo agli italiani La cultura Mi spiace Ma è importante Quello che dicevo prima È che noi dobbiamo fare Tanta cultura A partire dalla scuola Che non la sta facendo Da 30 anni La cultura E allora Vengono fuori Giovani Che non sanno niente Che non si appassionano A niente E tenete conto Che la cultura È molto seduttiva Affascina Se tu gliela porgi bene Dicendo agli italiani Che sono incolti Ai giovani Che sono ignoranti Che non sanno niente E quindi dovrebbero Abbeverarsi da lui Dovrebbero seguire lui Questa guida spirituale Come lo spaccia La giornalista De Gregorio Come il professore Umberto Calimberti Che la nostra Guida spirituale È forse anche morale Quindi grazie professore Addirittura anche Forse Morale Guida morale Cioè dovrebbero Come dire Andare dal maestro Calimberti E vedere un po' Come cos'è Cosa pensare In merito al bene Al male Giusto Ingiusto Vero Fals Eccetera Eccetera Mentre il risaputo È ormai confermato È comprovato da anni È anche denunciato Nei vari sedi istituzionali Che Calimberti È uno che ha saccheggiato Le proprietà intellettuali D'altrui È una persona morale Che ovviamente Continua A insultare Anche gli italiani E quando un popolo Pensa poco È incolto Come siamo noi italiani Ignoranti siamo Veramente ignoranti Apostrofandoli Ignoranti Che non sanno pensare Mentre chi non sa pensare È piuttosto lui Che dice delle panzane Legge Le dipo Ma non c'è capisce Un accidente E dice Asinerie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti